Qual è il principio fondamentale della legge delega, che è l'aspetto su cui veramente si incentra la riforma sulle notifiche? L'obbligatorietà, l'introduzione di una serie di casi non minimi, anzi direi veramente estesi, di obbligatorietà della notifica a mezzo VEC da parte del difensore. Quindi diciamo questa è un po' una rivoluzione governicana perché quella che era una facoltà peraltro grandemente utilizzata dai difensori, io visto che statisticamente ormai già ancora fino a dicembre dell'anno scorso la stragrande maggioranza dei ricorsi per cassazione erano notificati telematicamente, adesso diventa addirittura un'obbligatorietà. E in che senso obbligatorietà? La legge delega prevedeva che quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo VEC risultante da pubblico elenchi, o quando il destinatario ha volontariamente letto domicilio digitale sempre ai sensi del CAD, la notificazione degli atti in maniera civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo VEC nel rispetto comunque della normativa. Quindi diciamo questo principio di legge delega pone proprio un problema di obbligatorietà della notifica a mezzo VEC qualora i destinatari abbiano o obbligatoriamente o elettivamente un domicilio digitale. Qual è diciamo l'aspetto correlato a questo principio? E la legge delega si preoccupa anche di definire che cosa succede se la notifica a mezzo VEC non sia possibile perché per esempio il soggetto pure obbligato non abbia istituito l'indirizzo VEC, ovvero non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, il caso classico è quello della casella piena, cosa succede? Ed è importante sottolineare che la stessa legge delega non dice che in questi casi sia tu cur per notificato, ma stabilisce che l'avvocato provveda la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata del codice delle crisi di impresa e che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento. Questo principio della legge delega è molto importante anche come canone ermeneutico della normativa precedente, perché sappiamo che c'è stato, voglio parlare di un contrasto, ma comunque di pronunce diciamo non sempre tra loro congruenti, sugli effetti della notifica a mezzo VEC da parte del difensore non andata a buon fine per causa imputabile al destinatario e tipicamente come dicevo veniva in rilievo il caso della casella piena. Abbiamo avuto pronunce di questa Corte che, almeno una, che aveva ritenuto che in questi casi, poiché sostanzialmente facendo un'interpretazione anche delle norme in materia, era imputabile quindi al destinatario, equiparabile quasi a un rifiuto di notifica, la notifica potesse ritenersi perfezionata in questo modo. Altra pronuncia invece sottolineava che la legge 53 del 94 non prevedeva analogo meccanismo a quello che era previsto invece per le comunicazioni di cancelleria, che effettivamente si hanno per eseguito in cancelleria nell'ipotesi di notifica imputabile, con esito negativo, imputabile al destinatario. Da questa simmetria, diciamo, fra la disposizione relativa alle comunicazioni e la disposizione relativa invece di cancelleria e le notifica invece da parte del difensore, discendeva quindi il fatto che la notifica eseguita dal difensore non potesse ritenersi ritualmente perfezionata con onere a carico del difensore di provvedere alla notifica con mezzi tradizionali e nell'ipotesi di atto soggetto a decadenza con applicazione dei principi stabiliti alle sezioni unite per la tempestività della rinnovazione dell'atto. Vi è stata anche una giurisprudenza, per così dire, intermedia, che in qualche modo prevedeva che ci fosse una differenza come onere a carico del mittente del destinatario qualora ci fosse accanto alla indicazione del domicilio digitale anche l'indicazione di un domicilio fisico. Diciamo che a mio avviso il principio della legge delega che si preoccupa di stabilire che come si perfeziona e quando si perfeziona la notifica a mezzo PEC in caso di impossibilità o esito negativo imputabile del destinatario ci illumina anche sull'interpretazione della norma nella precedente versione che non prevedeva alcun meccanismo di questo tipo e invece prevedeva espressamente che la notifica sia preseguita con la ricevuta di avvenuta consegna. Vale a dire che nelle ipotesi in cui questa ricevuta di avvenuta consegna non pervenisse si aveva non notificato, non ritualmente notificato e anche qui la, diciamo, idea o comunque la soluzione di provvedere alla notifica mediante inserimento nell'area web del codice della crisi dell'impresa è una modalità per emulare in un certo senso il meccanismo che prevede che la comunicazione o notificazione a cura dalla cancelleria non eseguita per, non andata a buon fine per causa imputabile al destinatario venga, si abbia eseguita in cancelleria ma con la pubblicazione nell'area del PST e quindi questo meccanismo poi da una parte appunto pubblicazione nell'area del PST per le notifiche dell'avvocato a mezzo PEC nell'area web riservata del codice della crisi di impresa se vogliamo in qualche modo trovare una analogia con l'attuale mondo cartaceo della posta è come se in qualche modo si lasciasse l'avviso e poi uno l'andasse a ritirare all'ufficio postale cioè è un modo per dire non è andata a buon fine ma ti do comunque la possibilità di andarti a ricercare questa motiva non andata a buon fine mi sono soffermata su questo passaggio perché ritengo un principio, diciamo un aspetto fondamentale che appunto anche da queste sentenze così diciamo un po' diversificate lasciano intendere che la norma precedente poneva dei dubbi interpretativi che invece proprio attraverso il principio di delegge delega e la espressa previsione del meccanismo di perfezionamento penso che possano essere superati non solo pro futuro e quindi non appena entreranno in vigore queste disposizioni ma anche come chiave ermeneutica per il passato e quindi la notifica in questi casi si perfeziona solo nel decimo giorno successivo all'inserimento vado ancora rapidamente per diciamo evidenziare l'altro colorlario del principio cioè che quando la notificazione non è possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabile al destinatario la notificazione si esegua con modalità ordinarie è il caso ovviamente sia diciamo del destinatario che non ha nell'obbligo né è tenuto ad avere l'omicidio digitale sia il caso in cui per qualsiasi mal funzionamento del sistema non sia stato possibile eseguire la notifica in questo modo e a questo punto è possibile e direi solo a questo punto è possibile procedere alla notifica con le modalità ordinarie ancora ulteriore corollario di questo principio cartine della obbligatorietà della notifica telematica per determinati soggetti è il divieto espresso per il ufficiale giudiziario di eseguire su richiesta dell'avvocato le notificazioni in materia di atti in materia civile e stragiudiziale salvo che l'avvocato dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo VEC oppure che la notificazione non è risultata possibile cioè il divieto è correlato ai casi di obbligatorietà della notifica telematica e sostanzialmente l'attivazione dell'ufficiale giudiziario è possibile solo se l'avvocato sostanzialmente si assume la responsabilità di rilasciare una dichiarazione che la notifica viene richiesta con i mezzi tradizionali perché si è al di fuori dei casi di obbligatorietà della notifica telematica poi ci sarà da discutere in concreto e poi lo vedremo anche in sede di attuazione su che cosa consista questa dichiarazione che l'avvocato deve fare ulteriore principio della legge delega sempre nell'ottica della facilitazione o comunque dell'incentivo all'uso dell'informatica è adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui è effettuata dall'ufficiale giudiziario e penso per esempio ai vignoramenti o altre cose al di là dell'area residuale che ci siamo prima detti ancora ultimo passaggio di ordine generale questo che non riguarda solo le notificazioni ma in principio di ordine generale è molto importante cioè avere l'occasione nell'attuazione dei principi e dei criteri della legge delega di riordinare e dice espressamente la legge con un'espressione tecnica poco giuridica ma che diciamo da un punto di vista tecnico ha molto senso implementare le disposizioni in materia di processo civile telematico e questo diciamo tutti un po' gli utenti l'abbiamo individuata come la disposizione che poteva finalmente dare l'occasione di mettere un po' di ordine e cercare di sostanzialmente appunto andare a sistemare se possibile tutta la disciplina del PGT che come sappiamo è assolutamente sparsa fra vari atti e anche di fronti e rango diverso e a questo punto come è realizzata la legge delega vedo collegata Antonella a cui passo senz'altro la parola il tema è quello dell'attuazione di quei principi che Ileana ha illustrato il tema della notifica è un tema complicato perché il legislatore non è riuscito completamente a realizzare l'obiettivo a cui mira tutta la struttura del processo telematico quello che in un mondo ideale dovrebbe consentire a tutti di utilizzare queste notifiche in maniera efficace e per l'ipotesi in cui il destinatario si trovi in una situazione tecnica tale da non poter ricevere la notifica telematica che sia imputabile alla sua condotta poter fare in modo che comunque sia utilizzabile questa modalità di notifica individuale cioè per la notifica telematica così come accade per la notifica tradizionale dove ci sono questi luoghi di conoscenza legale previsti dal legislatore per fare in modo che si possano instaurare i processi a prescindere dalla volontà di non ricevere di chi è il destinatario della notifica e così anche nel mondo della notifica telematica si deve immaginare attraverso questa normativa l'introduzione di un luogo virtuale per ricevere una grande e dirompente novità perché fino ad oggi la legge che prevedeva la notifica telematica la legge 53 del 94 che rimane ancora il luogo dove è contenuta la maggior parte della disciplina si uniformava al principio generale per cui la notifica si perfeziona quando viene generata la ricevuta d'avvenuta consegna che tutti gli avvocati e anche magistrati ormai conoscono benissimo la famosa R-DAC quando insieme anche alla ricevuta d'accettazione ma è la ricevuta d'avvenuta consegna che determina il momento effettivo del completamento del procedimento notificatorio ora che cosa succede? al di là di alcuni orientamenti che si sono pure affermati nella giurisprudenza ma il principio generale che almeno gli interpreti grossomodo su questo credo che siamo un po' tutti d'accordo in questo panel di relatori intendono mantenere fermo e che appunto se la ricevuta d'avvenuta consegna non arriva a regime normativo attuale tu la notifica tu notificante non sei riuscito a farla e quindi devi ricominciare da capo e fare la notifica chiamiamola tradizionale invece nella legge delega che ci ha illustrato Ileana c'è un passo avanti un tentativo di realizzare anche per la notifica un luogo virtuale non è una cosa nuova era già prevista ad alcune disposizioni in precedenza soprattutto una materia tributaria ed era prevista per la comunicazione di cancelleria dove sappiamo appunto che se l'avvocato per casella viene o non riceve la comunicazione questa si deposita in cancelleria lo prevede l'articolo 16 in vigore già da molti anni gli avvocati lo conoscono bene ora che cosa succede che il legislatore non è riuscito a realizzare completamente questo fine ambizioso eppure era previsto sia pure diciamo in termini generali della legge delega e che cosa ha realizzato adesso lo vediamo cercherò di essere chiara e sintetica così come prescrive il nostro codice prima di tutto mi sono posta un problema di indicazione del luogo dove noi dobbiamo andare a studiare le notifiche perché in effetti il riordino che è l'ultima slide che ha fatto vedere proprio Ileana nella nostra presentazione comune questo riordino insieme all'implementazione questo riordino non è stato proprio facile da realizzare quindi non è stato compiutamente realizzato un terreno sul quale si vede che il riordino proprio non è andato completamente come si immaginava che nel riordino si immagina un corpus normativo omogeneo è proprio quello delle notifiche noi abbiamo norme alcune norme che si trovano nel codice di procedura civile altre norme che sono rimaste nella legge 53 del 1994 altre norme pure importanti queste non le ho messo nel cerchio qui che sono rimaste nel 179 del 2012 alludo per esempio all'articolo 16 che è importantissimo che spiega qual è il domicilio da utilizzare l'elenco di pubblici elenchi per fare la notifica telematica e altre norme tutte quelle sull'attestazione di conformità che si trovano nelle disposizioni di attuazione andiamola a vedere molto velocemente il codice di procedura civile contiene la norma base l'articolo 137 e poi queste altre norme tempo delle notificazioni che pure è molto importante perché è appunto quella regola per la quale la notificazione dopo le 21 e prima delle 7 anche se si perfeziona però non produce effetto è l'articolo 149 bis ora la disciplina del 137 però è la disciplina base ma la regola principale sta invece nell'articolo 3 bis della legge 53 del 94 ora la legge 53 del 94 è sì la legge base della notifica dell'avvocato poi che è diventata in cui si è innestata a partire dal 2012 la notifica telematica che è diventata poi la forma principale di notifica ed ora è la forma ma chiamiamola così regolare quella obbligatoria quando è possibile farla però è anche vero che quella legge non vale solo per il processo civile ecco allora che il legislatore è dovuto intervenire a circoscrivere nell'ambito di questa legge che vale anche per altri processi anche per l'attività stragiudiziale il campo specifico in cui è andato a dettare queste norme che valgono solo per il processo civile e poi bisogna tenere presente appunto le disposizioni d'attuazione esaminiamo un po' con queste norme l'articolo 137 è effettivamente un'acrobazia di chiamiamola scritto un'acrobazia la logica perché troviamo un tentativo di riordino perché non c'è più solo l'ufficiale giudiziario che esegue la notificazione ma l'avvocato e si viene in questo modo si dà atto del fatto che l'avvocato è diventato un soggetto che notifica tutti gli effetti e sappiamo che ha la qualifica di pubblico ufficiale quando lo fa e l'avvocato nel comma quinto esegue le notificazioni quando però nei casi e con le modalità previste dalla legge e ora la legge a cui fa riferimento il comma quinto del nostro articolo 137 non è una legge che è contenuta nel codice di procedura civile ma è appunto la legge 53 del 94 principalmente e le norme ovviamente connesse citavo prima l'articolo 16 del 179 del 2012 per individuare quali sono i pubblici elenchi ma anche tutte le norme che stanno dietro quelle generali del codice dell'amministrazione digitale che ci forniscono i concetti giuridici necessari per poter notificare per poter utilizzare questo processo telematico gli istituti del telematico ossia il documento informatico le copie e quant'altro e le firme e quant'altro ora l'avvocato esegue le notificazioni nei casi previsti dalla legge e l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla perché è un caso in cui non è obbligatorio per l'avvocato eseguirla oppure se non è possibile o non ha avuto esito per cause non imputabili al destinatario a questi casi qua poi va aggiunto un altro caso che non si trova nell'articolo 137 cioè il caso che vedremo tra poco della notifica a soggetti diversi da professionisti e imprese che hanno un domicilio digitale obbligatorio o elettivo in questo caso in particolare elettivo per i quali quindi vale la regola per cui l'avvocato deve eseguire la notifica telematica per cui non richiediamo nel caso dell'articolo 137 come la prima parte ma nemmeno in quello della seconda parte perché in questi casi anche se è imputabile l'impossibilità di recapitare ve lo dico già da subito faccio un'anticipazione si tratta sostanzialmente per esempio dei privati cittadini che si sono iscritti all'INAD per questi soggetti anche se colpa loro il fatto che non possono ricevere perché per esempio non hanno provveduto a svuotare la casella non si procede ad andare in questo luogo virtuale l'area web di cui parlava pure prima eleana ma si procede con la notifica che il codice che la normativa che stiamo esaminando chiama ordinaria anche se poi quella obbligatoria e regolare è quella che farà l'avvocato a questi soggetti quindi vedete che è una normativa piuttosto complessa da leggere in cui bisogna individuare una regola ma poi ci sono molteplici eccezioni qui ho fatto un po' una sintesi quindi quando si ricava ex adverso l'area dell'ufficiale giudiziario perché quando c'è l'obbligo per l'avvocato di procedere c'è il divieto dell'ufficiale giudiziario di procedere alla notifica è un'area quindi residuale e per relazione già vi ha anticipato il caso in cui l'avvocato non possa procedere alla notifica perché non ha un domicilio digitale il destinatario questo è logico perché la notifica se è telematica contiene diciamo dentro atti telematici io la devo mandare a un indirizzo a un domicilio digitale definizioni queste molto importanti per l'ipotesi in cui l'avvocato poteva procedere alla notifica telematica perché il destinatario disponeva di un domicilio digitale ma questa non si è andata a buon fine dobbiamo individuare un sdoppiamento di disciplina che è relativo alla qualifica del destinatario quindi in questo punto c'è effettivamente un po' una divaricazione rispetto alla legge delega una divaricazione che viene riconosciuta attenzione dal legislatore il quale nella relazione d'accompagnamento che è molto importante e istruttivo leggere e si trova nei materiali che è peribile ovviamente sul web molto agevolmente ormai tutto si trova sul web il legislatore nella relazione d'accompagnamento ammette di aver operato consapevolmente questa divaricazione questa diciamo disallineamento rispetto al principio della delega che voleva che in tutti i casi in cui il soggetto si fosse dotato o perché era obbligato a farlo o perché aveva ritenuto di farlo volontariamente nel caso del privato cittadino che si iscrive all'INAD ebbene in tutti questi casi la notifica non fosse solo obbligatoria ma forse dovesse essere possibile andare in un'area per potervi accedere anche per l'ipotesi in cui il soggetto non avesse manutenuto bene il suo domicilio digitale invece per il cittadino si fa un'eccezione e il legislatore nell'elettrizazione di accompagnamento spiega anche la ragione perché appunto per il cittadino si vuole fare in modo che questi effettivamente conosca della notifica si prende atto del fatto che siamo ancora in un momento forse di immaturità dal punto di vista della conoscenza degli strumenti informatici nel processo vedete molti interpreti anche autorevoli fanno riferimento alle norme generali del CAD e auspicano che le norme del processo non siano speciali rispetto a quelle del CAD e invece il legislatore declina utilizza questa specialità e lo fa proprio perché si vuole arrivare in un contesto come quello processuale dove è importante garantire la difesa garantire la conoscenza si vuole arrivare gradualmente a un momento finale in cui ci sarà una completa digitalizzazione queste sono altre norme che sono contenute nel codice di procedura civile prima vi facevo cenno il tempo delle notificazioni una norma già nota che viene razionalizzata e il 149 bis che estende la possibilità in proprio all'ufficiale giudiziale di svolgere attività di notifica telematica sappiamo bene che gli ufficiali giudiziali finora non è che non volessero operare non volessero fare le notifiche telematiche non sono stati ancora dotati dal Ministero della Giustizia attraverso i soggetti che si occupano i dipartimenti e le direzioni generali di Gisia che si occupano di questo non erano stati ancora dotati degli applicativi e delle norme diciamo concrete tecniche specifiche tecniche per svolgerle ora andiamo velocemente alle disposizioni della legge 53 del 94 che in qualche modo sono state già anticipate il primo comma dell'articolo 3 bis è nuovo ed è una norma che richiama l'indirizzo del domicilio digitale di quell'articolo 16 ter del 179 del 2012 il 16 ter è una norma che fa l'elenco dei pubblici elenchi utilizzabili per le notifiche e quindi sostanzialmente nel civile nel processo civile nelle notifiche il domicilio digitale è quello che risulta da pubblici elenchi non c'è se non per le comunicazioni quando la parte sta in proprio la possibilità di indicare un domicilio specifico speciale e che peraltro non mi risulta essere stato molto utilizzato e lo stesso istituto c'è anche nel processo telematico penale molto più esteso in quel settore ma vedremo poi se verrà effettivamente realizzato resta la regola generale per cui per le notifiche deve risultare da pubblici elenchi ora vado molto velocemente perché in qualche modo queste norme le abbiamo già analizzate per dirvi solo appunto che c'è stata in questa norma dell'articolo 3 bis solo un raccordo e un coordinamento con la norma delle attestazioni di conformità che non si trova più come era prima nel 179 del 2012 in tutti quegli articoli 16 deces e compagnia ma adesso si trova nell'articolo 196 un deces delle disposizioni per l'attuazione eppure quanto al perfezionamento vengono richiamate le regole generali per cui il perfezionamento è quando viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 del DPR 68 del 2005 una norma base il DPR 68 del 2005 è proprio la regola generale della posta elettronica certificata che viene richiamata dalla legge 53 del 94 alla luce di questo impianto normativo quindi se vogliamo creare delle categorie che ci aiutano a ricordare e a capire possiamo dire che la legge delega prevedeva il domicilio digitale obbligatorio per legge e quindi in questo caso prevedeva l'obbligatorietà della notifica a tutti coloro che avessero questo domicilio digitale obbligatorio per legge e prevedeva poi l'obbligatorietà anche per chi aveva il domicilio digitale elettivo per chi aveva inteso volontariamente di istituirlo ed è il caso appunto come dicevo prima dell'inad su questo domicilio digitale obbligatorio per i professionisti c'è da dire che c'è stata una significativa e importante innovazione contenuta nell'articolo 6 del CAD 6 quadri del CAD e nelle linee guida rilasciate dall'Agid proprio sull'inad che non tutti hanno ancora avuto modo di approfondire che produce la conseguenza per la quale i professionisti e le imprese che sono iscritti per legge obbligatoriamente come sappiamo nell'INIPEC si trovano automaticamente se non scelgono un altro indirizzo anche nell'inad come persone fisiche questa normativa risolve una serie di problemi che si erano posti circa l'utilizzabilità dell'indirizzo professionale per esigenze per notifiche personali a questi soggetti per il momento però l'INAD non ha avuto ancora attuazione completa mi pare che diciamo almeno a quello che abbiamo verificato recentemente ancora non sia stato implementato completamente quindi ci sono le linee guida ma credo che ancora non possiamo utilizzarlo compiutamente in ogni caso se la legge dedica non faceva differenze a riguardo quanto all'obbligatorietà della notifica nella attuazione la differenza è stata introdotta sul piano degli effetti che succede se non mi arriva la ricevuta da venuta consigna questi sono gli effetti cioè io sono obbligato a fare la notifica ai soggetti che hanno il domicilio digitale non c'è differenza tra chi è obbligato ad averlo e chi se l'è fatto volontariamente quindi in termini pratici questo cosa significa per gli avvocati che quando devono fare la notifica prima devono andare a verificare se il soggetto a cui devono notificare sia iscritto in uno di questi elenchi devono cioè operare queste misure sugli elenchi devono capire gli elenchi dove si trovano come si consultano e come li devono interrogare e poi ove mai non fossero presenti questi soggetti degli elenchi per poter svolgere la notifica tradizionale devono rendere delle dichiarazioni all'ufficiale giudiziario perché l'area dell'ufficiale giudiziario si ricava come abbiamo detto per redazione che cosa succede allora quanto in concreto per l'ipotesi in cui per causa imputabile al destinatario non è possibile eseguire la notificazione qui c'è la grande divaricazione in sostanza e in termini estremamente sintetici è possibile avvalersi della notificazione mediante inserimento dell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi dell'impresa dell'insolvenza e quindi a quel punto si procede a questo luogo fittizio che però è sempre questo luogo diciamo virtuale chiamiamolo così che però è sempre consultabile dai destinatari però solamente se il destinatario che aveva la casella piena il destinatario che per causa non imputabile non ha ricevuto la PEC sia un professionista un'impresa a questo punto apro e chiudo parentesi a me risulta che quest'area web riservata prevista dall'articolo 359 di cui stiamo parlando non sia stata ancora valorizzata su questo chiedo conferma anche agli altri relatori ma ne parlavamo prima con Iereana ci risulta che quest'area non sia stata ancora realizzata dal ministero competente e quindi di conseguenza allo Stato questa normativa non risulta applicabile però questa normativa lo vediamo dopo nelle disposizioni adottazione entra in vigore il 28 febbraio allora che cos'è che non è applicabile la seconda parte quella che consente di sopperire all'ipotesi della mancata consegna attraverso la pubblicazione e a questo punto siamo perfettamente come eravamo prima perché è evidente che se non posso utilizzare questa modalità ove non mi arriva la ricevuta del venuto a consegna e ho fatto sì la notifica telematico obbligatoria ma poi sono costretto a ricorrere alla notifica ordinaria ma andiamo con ordine questo è il caso del professionista dell'impresa dove nell'ipotesi in cui la casella sia piena quando sarà istituita quest'area web riservata sarà possibile realizzare autonomamente la notifica telematica senza ricorrere a quella cartacea diversamente l'ipotesi del soggetto che ha eletto il domicilio volontariamente che non era un soggetto tenuto ad iscriversi all'INIPEC è il caso appunto tipico del privato in questo caso anche se è colpa della mancata manutenzione della casella quindi è una causa imputabile che ha reso impossibile il completamento del procedimento notificatorio che ha reso cioè impossibile ottenere quella ricevuta da venuta consegna che in base alla legge già al DPR 82 del 2005 richiamato nella legge 53 del 94 comporta il perfezionamento a questo punto il legislatore si discossa dal principio di delega prevede che in questo caso la notifica avvenga nelle forme ordinarie ora è interessante anche l'utilizzo del lessico le forme ordinarie nonostante sia quella obbligatoria se quella telematica sono quelle antiche diciamo classiche quelle per le quali si parla dell'ufficiale giudiziario gli si dice gli si racconta tutta la vicenda per la quale non è stato possibile facendo appunto un'apposita dichiarazione e si fornisce a questi tutti gli elementi per procedere nella maniera diciamo tradizionale chiudo con questo specchietto sulla notifica in cui appunto c'è un riepilogo il privato che non ha la PEC ecco qual è la la regola la notifica ordinaria la modalità di notifica quindi è quella ordinaria la potrà fare l'avvocato con le forme ordinarie o con l'ufficiale giudiziario la pubblica amministrazione è un caso interessante perché su questo non c'è una disposizione dal punto di vista diciamo del luogo virtuale in questo caso comunque si ricade nel regime dell'obbligatorietà perché sappiamo che la pubblica amministrazione è tenuta ad avere un domicilio digitale lo prevede l'articolo 16 comba 12 del 179 del 2012 il registro dell'EPA in subordine c'è la possibilità ancora dal 2021 di utilizzare l'indice EPA che è stato risuscitato dal legislatore e quindi il caso della pubblica amministrazione è un caso di un soggetto che è obbligato ad avere l'indirizzo del domicilio digitale e quindi la PEC è obbligatoria perché così si ricava l'area di obbligatorietà dall'obbligatorietà di avere il domicilio digitale se non va a buon fine per causa imputabile abbiamo scritto notifica ordinaria perché non è stato previsto il luogo virtuale per la pubblica amministrazione sia se imputabile sia se non è imputabile come era in precedenza e così è rimasto perché non c'è stata una disposizione per l'APA per i professionisti e per l'impresa invece la disposizione c'è stata l'abbiamo più volte illustrata e quindi è obbligatorio e c'è l'area web quando l'area web sarà realizzata però se però la causa non è imputabile ancora una volta si rispande la notifica ordinaria per il privato che ha letto domicilio nell'INAD c'è l'area dell'obbligatorietà correttamente perché abbiamo detto che chi ha il domicilio digitale o obbligatorio o elettivo fa attivare l'obbligatorietà della PEC dell'avvocato però se la causa per cui non è andata a buon fine è imputabile questo soggetto la notifica deve essere ordinaria ancora una volta ovviamente come pure nel caso in cui sia non imputabile questo quanto alla disciplina transitoria non c'è stata alcuna modifica se non temporale ossia tutte queste norme sia quelle sull'attestazione di conformità sia quelle sulla notifica che abbiamo esaminato sia contenute nel codice che nella legge 53 del 94 mentre nell'originario testo del 35 dovevano entrare in vigore tra giugno adesso sono state anticipate in forza della normativa qui riportata e questo crea problemi interpretativi con riguardo al fatto che non è ancora prevista e non è stata ancora attuata l'area web ovviamente nel frattempo si ritiene che ci sia un'altra attività di tutte le norme precedenti sia quelle del deposito che delle attestazioni di conformità perché c'era stato qualcuno che aveva evidenziato il voto normativo non lo illustro perché è stato già superato da tutti questo punto e vi dico solo che le disposizioni di attuazione prevedono prevedono poi tutta la disciplina delle attestazioni di conformità sono nelle slide non c'è tempo di illustrarle ma non ci sono state modifiche e vi rinvio e vi rinvio che ci sono state che ci sono state che ci sono state che ci sono state